Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia in studio Marco Cargini. Iniziamo dalla 1 dove ci sono 2 km di coda per un incidente avvenuto tra Arezzo e Valdarno in direzione Bologna. Un incidente avvenuto anche in A11 tra Lucca Ovest e l'allacciamento con la 12 a Pisa in direzione Pisa. Prestare attenzione al camion fermo in avaria segnalato tra Pistoia e Prato Ovest in direzione Firenze. Spostandoci sulla FIPI lì, veicoli fermi o in avaria in entrata alla Strassigna in direzione Livorno e tra Ponte d'Era Est e Montopoli-Valdarno in direzione Firenze. Attenzione al personale sulla strada per lavori in entrata a Ginestra Fiorentina in direzione Livorno e in uscita sempre a Ginestra Fiorentina provenendo da Firenze. Personale su strada per lavori anche in entrata a Empoli in direzione Livorno. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!